e ciao a tutti siamo ritornati su un nuovo video su youtube allora oggi vi faccio un pochino vedere iniziamo con cosa? con un bellissimo filmetto evviva sei contenti? allora io contentissimo perchè la prima volta la seconda volta perchè ho già fatto una serie di 3 minuti e che non avevo detto quel video che continuavo ma non avevo detto in subito il mio video questo che non ha visto l'altro video è il figlio figlio questo è l'autobus e fa questo questa che viene portata da un foglio questa è la mamma ora vado a prendere il papà lo vedrete un pochino questo è il papà e questo è il loro parallelo ciao ciao ora vado a prendere il figlio e lui parla ciao come fate? ok e l'autobus parla così e l'autobus parla così ok e l'autobus parla così ok allora iniziamo la storia e l'autobus parla così e l'autobus parla così e l'autobus parla così scusami scusami ma io devo ma io devo non ce la faccio allora dove devo andare? no oggi devo andare al lavoro e io la scuola e viva sono contento sono ricattata da una scuola e chiudiamo ecco qua la scuola volete vedere la scuola? ora vediamo ecco la scuola questo è il prof allora ora aspettate che mi metto un pochino più in alto si possono vedere anche il prof ora vediamo questo è il prof questo è il bambino ciao ciao come stai? io bene aspetta parliamo al pubblico ok ora vai al banco pap siamo rimasti da soli ora vi posso fare una cosa cosa non ti amo te un attimo che non ho mai fatto questo siamo ritornati a casa a vedere a sentire la musica ascoltate la musica possiamo andare alla prossima serie a 2000 like avete sentito avete sentito non facciamo nessuna serie ciao ciao e niente dislike vi piace lo so e vi devo chiudere con un bellissimo fungo temperino che vi fa così ciao